Che bello! Giochiamo a calcio! Let's go! Comincio io per primo! No, comincio io! Ok, ok! Wow! Wow! Oh no! Jason, firmati! Che c'è? Forza, torna qui! E subito! Ok! Che succede, fratello? Non si può camminare in strada così! Potrebbero esserci delle macchine! Oh, mi dispiace! Non farlo più, ok? Non lo farò più! Ok, sai una cosa! Andiamo al parco con la macchina! Aspetta, fermati! Che cosa c'è? Guarda! Cosa sta succedendo? Ferma! Non possiamo più guidarla! Non possiamo guidare! E perché? Perché dobbiamo pulirla! Oh! Allora puliamola, sì! Ok, puliamola! Me lo lasci fare un po' a me? Ok, ok, ecco qua! Ok, Jason! La macchina è più pulita ora! Sì, pulitissima! Allora, beh! Andiamo! Adesso è ora di mangiare un biscotto! Ok, ragazzi! Andiamo al parco adesso! Oh, mi ammi! No, questo non è permesso, no! Non si devono lanciare cose sulla strada! Jason, non si deve buttare niente per terra! È vietato! Oh, mi dispiace! Lo butterò nel cestino! Si butta la spazzatura nel cestino! Bene! Ottimo lavoro! Dai, giochiamo! Sì! Sì! Wow! Wow! Aspetta, fermati! Che sta succedendo? Niente! Non fa ridere! Ehi, Jason, vuoi mangiare qualcosa? Sì, mangiamo qualcosa! Forza, andiamo! Oh, fermiamoci! 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 Oh, no! Ehi! Ehi! Ehi, frutta! Frutta! Andiamo! Vuoi mangiare? Sì! Jason, sto per mangiare! No, stop! Perché? Ti sei lavato le mani? Oh, no! Fammi vedere! Non ho lavato le mani! Adesso prendo io da mangiare! Stop! E tu? Ti sei lavato le mani? Fammi controllare le mani! Ok, Jason! Andiamo a lavarci bene le mani in bagno! Ok! Andiamo! Dai, andiamo a lavarci bene le mani in bagno! Ok! Posso lavarmi le mani prima? Sì, certo! Ecco un po' di sapone! Ok! Un po' di sapone, per favore! Grazie, Alex! Ora è il mio turno! Lavarsi le mani è super divertente! Ok, Jason! Abbiamo il sapone sulle mani! E ora che ci serve? L'acqua! Va bene! Laviamo le mani con l'acqua! Ora sono pulite! Si mangia! Mele deliziose! Sono buone! Sbrigati, Alex! Sì, mi sto lavando le mani ora! Anche le mie mani sono pulite! Ora si mangia! Oh, grazie! Amo la frutta! La amo anche io! E adoro le mani pulite! Anche io! Oh, no! Alex tossisce! Ehi, Jason! Dammi la mano! Alex ha la tosse! Jason! Dammi la mano! Dammi la mano, Jason! Ehi, Jason! Fermati, Alex! Che succede, Alex? E dimmi perché non mi dai la mano? Tu tossisci sulla mano e io posso ammalarmi! Ah? Hai ragione, Jason! Ora devi lavarti le mani! Sì, mi lavo le mani! Dai, andiamo! Ok! Ok, Alex! Lavatele! Ok, ragazzi! Vado a lavarmi le mani! Allora? Così che dici? Va bene? Alex, così non va bene! Devi usare il sapone! E devi lavarti a lungo! Ok! Userò più sapone! Ok, vediamo le mani! Allora? Sono pulite adesso le mani? Ottimo lavoro, Alex! Le tue mani sono pulite! Ora posso avere la tua mano? Sì! Bene! Guardo un po' di TV! Oh, devi mangiarle tutte e quattro! Certo! Vi abbiamo preso, ragazzi! Vi abbiamo preso! Ragazzi, guardate quanta frutta! Jason, è ora di mangiare! Deve sbrigarsi! Ok, arrivo! Sono qui, fratello! Jason, ho della frutta per te! Ecco qua! Non voglio la frutta! Voglio altro! Dammi qualcosa di buono! Oh no! Vado a prendere del cibo! Vado ad ordinarlo! Aspetta un po'! Ho un'idea! Sarò il suo chef personale! Molto bene! Prepariamo del cibo per Jason! Bene! Ci siamo! Vendo pizza! Vendo pizza! Vendo pizza! Vendo pizza! Vendo pizza! Usciamo da qui! E prendiamo una pizza! Vendo pizza! Voglio una pizza, per favore! Vuoi la pizza? Sì! Un dollaro! Grazie! Potete sedervi! Voglio la pizza... Margherita! Ok! Inforniamo la pizza! Aspettiamo tre secondi! Fatto! Questa non è buona! Io aspetto al cibo! Ecco qua! Che cosa? Che cos'è questo? Questo gli insegnerà a mangiare fuori! Rifacciamo la pizza! Che cosa sono? Insetti? Voglio andare in un altro ristorante! Sta andando in un altro ristorante! Ora facciamo gli hot dog! Vendo dog! Vendo dog! Vendo dog! Guardate qui! Vendo dog! Sul barbecue! Vendo dog! Venite! Venite qui! Vendo dog! Ehi! Voglio un hot dog, per favore! Grazie! Vai a sederti! Ok! Prepariamo degli hot dog! Ah! Ho quasi finito! Mettiamoci sopra un po' di salsa! Non è la salsa! È olio! Ha il fuoco! Spegniamo il fuoco! Devo spegnerlo! Sì! Il fuoco! Me ne vado! Me ne vado via! Vado a mangiare sano a casa! Jason torna a mangiare a casa di nuovo! Andiamo a trovarlo dentro! Forza! Ehi! Sei tornato? Sì! Sì! Voglio mangiare! Il mio piano ha funzionato! Una fragola! Bene, Jason! Adoro la frutta! Ehi! Ehi!